Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in una nuova challenge oggi siamo insieme per fare la challenge rischia il gusto rischia il gusto questo video sarà caricato su tutti e due i canali quindi potrete vederlo sia sul mio che su quello di Terry io caricherò il link di Anna, lei avrà il link mio se volete un'altra challenge ce lo lascialete nei commenti ah facciamo vedere le bustine che abbiamo trovato qua non si chiama rischia il gusto però è quello testa il gusto questa qui e c'è anche l'altra che sta qui con le caramelle e le viola loro sono i nostri ospiti speciali e sono le due di no anzi le due e un quarto se vedete l'orologio dietro si può anche venire non abbiamo niente da fare che challenge ora vi diciamo i gusti che ci sono non so dove siano scritti qualcuno detta? facciamo qualcosa io Antonio Antonio leggi da qui quanti gusti sono? ci sta pinnappol 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 ananas ananas e cacca del pannolino poi mela verde e raffreddore raffreddore? mucco 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 o bava di cane o bava di cane ciliegia o caldini sporchi vabbè siamo abituati con le nostre ragazze ecco grazie banana o un uomo marcio tutte cose deliziose comunque iniziamo ognuno di noi girerà la ruota inizia tu mucco Allora, dimenticavo di dire che giochiamo a squadre Quindi siamo noi contro loro E chi sputa perde Quindi dobbiamo cercare di mangiare tutte le caramenti E chi perde, progapegno con una challenge Che direte voi? Bravante, mongino, tocca a te Buona Il retrogusto di menta Verde Verde ci divertiamo, mai Verde sarebbe o mela verde oppure mucco Pronti? C'è stata la vasta scelta Ecco la verde, la speranza di trovare la mela Uno, due, tre, vai Ho paura Al momento è mela A me è forte, tipo Ma è forte Sicuro che è mela? No, è muco È melissimo, voglio a me Ma non è muco Sì, ma è proprio muco Menta Mela No, è di muco È melissimo, voglio a me Ma non è muco Sì, ma è proprio muco Che sta? Di mucco Di mucco Menta Mela 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 No, è la mela verde proprio in bocca Ma è menta? È forte, guardaci Pure la mela è forte, è buona Ma è sicuro che è un mentale per la freddura Non so, sicuro che è scherano Zero pari Non è riuscita una lingua di cavallo Ah La russa No, era andata qui in realtà Ed è andata su ciliegia o O calzini sporchi La russa Ragazzi, la russa che sembra marena Ma speriamo che sia ciliegia Vedo uno Due e tre No 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 Tutti buoni Calzini pop Buona, 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 buona retta Calzini Buoni Calzini Amo, per la super verde Ma sono calzini Ma sono calzini, ma sono di due Buoni Buona, è proprio calzini, buona, buona, buona Buona, 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 buona retta No, non mi vuole fare calzini Ma sai di plastica Ma sei sicuro? Ma sai di calzini Sì Vuoi assaggiare? No, amore Siamo 1 a 0 Dovamo fare maschi contro femmine Non vale E che hai fatto? Non girato No, rigiro perché Facciamo così più forte E l'arancione E quell'altro giallo Quell'altro giallo E arancione? Facciamo quell'altro Arancione Allora che gusto è? Quindi arancione Quindi funziona che? Dimmi che cos'è arancione Ok Perché non so leggere E ho preso questa Arancione o mandarino O bava di cane Arancione Vabbè come non sappiamo la bava di cane Com'è? Magari Buona Ti piace? 2, 3 Mmm Arancione Arancione Buona L'ho scoperto io Come è la bava di cane Buona? Mamma mia Andò Buona Ingoia 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 Perdi 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 Ingoia Mamma lì C'è me l'arancia strana 2 in 0 Prego Anna Che sta però E merda Allora ci sono Yeah Stiamo vincendo Altri 4 gusti L'ultimo giro sarebbe questo Vai Anna No Sono due giri Due giri Due giri Quindi possiamo pareggiare Esatto E possiamo vincere No Niente Prossimo giro Sì Rosso Arancione Ok Che sarebbe Dove si scrive O uva O acqua sporca Acqua sporca Non abbiamo assaggiato L'acqua sporca E quindi come funziona Così Esatto Prego 3 2 Ah ok Via Ma che lo fai questa? Buona Mi dettaglio qui Mi Mi Penso che è uva Buona 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 ti sei tovuto? guarda, ti ritrovo l'acqua e voglio te l'hai aiutato, grazie mi dici che cos'era? l'hai guarata? è una muffa? è una muffa è una muffa non è, sei schifissima ma ti ritrovo l'acqua e voglio te l'acqua e voglio te l'acqua quindi restano le perdi ti ricordo le perdi devi truccare quindi non vuoi perdere banana o vuoco marzo? ah, secondo mia 3, 2, 1 via very good very good fallo, fallo per il canale questo che sembra? very good è buona amore 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 è buona è buona che ci sta qua? il vomito, il vomito vai la buffa nell'angolo è buona grazie è supportabile è supportabile è supportabile vai la buffa nell'angolo vai si ma tanto comunque avresti vinto è pomido è pomido allora la sputa no amore non hai vinto se la sputa vai la sputa si abbiamo perso due volte no amore non vincite non vincite non vincite ingoia ingoia queste caramelle non costane ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ancora masticata ragazzi abbiamo perso quindi dovete ma perché abbiamo perso? non mi trovo l'abbiamo salutato due volte e queste sono le vostre caramelle quindi dovete dirci il pegno la challenge che dobbiamo pagare scrivetesi nei commenti tra i commenti ragazzi queste caramelle proprio però i gusti sono un po' strani menta era arancia arancia era muffa non lo so allora se vi è piaciuto il video fatecelo sapere nei commenti esatto solo per il coraggio di farlo alle 3 e un quarto di notte non abbiamo niente da fare e iscrivetevi ai canali lo metteremo in tutti i due canali lasciate un like eh 50 like e facciamo un'altra challenge tutti e quattro fateci sapere qual è il pegno che volete vedere e lo realizzeremo e spolliciate ecco lo realizzeremo nel prossimo video noi ci vediamo alla prossima bene i due concorrenti cosa hanno da dire? niente? disgustoso come c'hanno ah si? molto disgustoso è bella la bava del cane non la dimenticherò mai bene bene ora possiamo andare penso noi ci vediamo al prossimo video e vi salutiamo con un bacio ciao a tutti ciao